Gli amministratori devono riuscire a risolvere i problemi, non a spiegare le motivazioni che hanno portato alla futura. Le possibilità di intervenire c'erano, noi siamo qui per questo, siamo una città come dico spesso dei sensi, senza ciscina, senza mattinodromo, senza casa serena, abbiamo i negozi che continuano a chiudere, il nostro commercio sta morendo, noi vogliamo rivitalizzare questa città e quindi siamo qui oggi per rappresentare quelle 2000 famiglie che hanno dovuto rinunciare a un'attività importante come è lo sport a causa della chiusura di una piscina che è sotto gli occhi di tutti. Quindi basta con le parole e con le chiacchiere, i problemi vanno risolti e non vanno continuamente e semplicemente spiegati tutte le motivazioni.